Salve ragazzi, rieccoci. Cosa è successo? Cosa è successo? Incredibile! Il Sassuolo spugna San Siro al 95esimo con gol di Berardi su rigore e quindi l'Inter non è campione d'inverno. Incredibilmente la Juventus poteva avere la possibilità pazzesca di essere campione d'inverno se il Napoli avesse perso contro il Froginone, cosa che non era credibile. Comunque per come si era messa la Juventus alla fine adesso aveva la possibilità, dato che tutte le altre avevano fatto passi falsi, incredibilmente la Fiorentina ha perso tra uno in casa come ho commentato. Questo è il commento dei ragazzi di Inter Sassuolo, una partita dove l'Inter infatti ha dominato e meritava di vincere e ha perso. L'Inter praticamente quest'anno fa l'opposto di come è la legge del calcio, quando gioca male vince e quando gioca bene perde. Fatto sta che l'Inter, vi ho sempre detto, l'Inter è in questo, a questi punti, a questi punti, a 39 punti come la Juventus per un semplice motivo, perché è una squadra non fortissima ma cinica, ma soprattutto, soprattutto perché loro hanno un top player e si chiama Samir Andanovic, che anche ieri ha fatto delle parate veramente difficili, è stato molto 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 bravo sul tiro di, sulla punizione di Sassuolo è stato veramente molto bravo, veramente molto bravo e poi nel secondo tempo sul tiro di Floro Flores. Diciamo ragazzi che l'Inter si è mangiata delle occasioni mostruose nel primo tempo, nel primo tempo si è mangiata diciamo Icardi, Icardi si è mangiata, si è e anche gli Aic, si è mangiato un gol, più di un gol, si è mangiato gli Aic, più di un gol, più di un gol però nel primo tempo diciamo che gli Aic aveva inventato un tiro a giro fantastico e Consigli ha fatto veramente una parata mostruosa, veramente nel secondo tempo Consigli è stato veramente molto 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 bravo, molto bravo in alcune conclusioni di cui sempre una degli Aic, poi c'è stato un salvataggio di Peruso clamoroso, dove però anche se l'Inter l'avesse segnato non sarebbe stato un gol buono perché Brozovic era in fuorigioco e ha passato la palla a Palacio e poi ragazzi niente, diciamo che anche su Missiroli nel primo tempo Andanovic è stato molto bravo, ha chiuso praticamente tutto lo specchio e praticamente i due portieri si sono comportati egregiamente e nel secondo tempo con quella mezza rovesciata di Floro Flores Andanovic è stato veramente bravo a rispingere i Consigli, comunque è stato bravo, sempre bravo a rispingere le conclusioni dei giocatori dell'Inter, poi gli Aic si è mangiato un gol pazzesco, un gol pazzesco, prima ho avuto la possibilità a Morillo dove c'è stata però una palla abbastanza rimpallata e poi gli Aic praticamente aveva praticamente a la disposizione era forse più semplice di un calcio di rigore e la cacciata fuori in maniera clamorosa, clamorosa e poi niente ragazzi succede che il Sassuolo, il Sassuolo cercando di difendere un po' la palla e di non prendere ancora occasioni succede che si butta in avanti e praticamente Morillo va a vuoto e Miranda commette un fallo palese da calcio di rigore, mi sembra su De Frel, non mi ricordo chi era il giocatore del Sassuolo, comunque Miranda commette palesemente fallo perché prima lo tiene poi lo affossa, quindi il rigore è netto e gli è andata anche Mancini che si è lamentato a fine partita per le mancate espulsioni di Berardi che il tocco e la manata di Berardi era nettamente involontaria perché ha calciato, è andata all'indietro e gli ha dato una manata ma non l'ha neanche visto ad Ambrosio e Mancini mi si è scordato di dire che se l'arbitro dove eri da calcio di rigore e ovviamente era calcio di rigore devi dare il rosso a Miranda perché se Miranda non lo ferma, De Frel è lanciato verso la porta e probabilmente segna, quindi questa si chiama chiara occasione da gol ed era rosso netto e non l'ha detto questo Mancini anzi ha ricominciato a lamentarsi che dov'era sempre preso con loro quindi è meglio che queste cazzate non le dice, comunque al 94esimo è 30 minuti 30 secondi più o meno e praticamente parte Berardi e segna il gol del 1 a 0 palla centrale Andanovic si butta la sua sinistra e gol del 1 a 0 del Sassuolo Berardi 1 a 0 e il Sassuolo riesce ad espugnare clamorosamente San Siro e adesso adesso per l'Inter l'Inter rischia rischia seriamente di andare fuori della corsa scudetto rischia non è fuori però rischia se perde un'altra partita l'Inter è praticamente fuori quindi vedremo sabato se l'Inter riuscirà a vincere oppure no se riuscirà a vincere vedremo vedremo se riuscirà a vincere indipendentemente da quello che farà l'Inter la mia opinione la mia opinione e che se non ci fosse stata Andanovic secondo me l'Inter sarebbe molto 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 indietro meno della metà dei punti che ha quindi vi faccio per dire che la situazione veramente è veramente critica adesso per l'Inter secondo me perché l'Inter ha perso due partite in casa con una squadra che era la Lazio che era una squadra in crisi che però sta dimostrando che in trasferta vince sempre con il Sassuolo che è stato dominato per 95 minuti praticamente ha creato buone occasioni però l'Inter ha giocato nettamente meglio ed è riuscito a perdere queste sono ingenuità importanti in un campionato che se le commetti significa che non hai la lucidità per rimanere in betta classifica e gli interieri bastava che vinceva bastava che vinceva ed era campione d'inverno se tu dici non è facile per carità però le occasioni che si è mandato lì a Aic potevano quelle potevo farle tranquillamente anche io coi gol e quindi niente ragazzi il Sassuolo vince a San Siro contro l'Inter vittoria clamorosa e chissà chissà se il Sassuolo sabato sera riuscirà a dispugnare anche Napoli magari per la Juve ciao ragazzi e forza Juve Grazie